Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un succulento coniglio in agrodolce. Il coniglio in agrodolce è un piatto tipico della tradizione siciliana. In un passato non poco remoto lo usavano le nostre nonne nelle grandi occasioni. Tra gli ingredienti non possono mancare le olive nere. Ma ciò che conferisce al nostro piatto quel suo caratteristico sapore sono l'equilibrio tra l'aceto e lo zucchero. La tradizione prevede una marinatura in frigorifero di una notte con del vino bianco e delle spezie ed io farò proprio come prevede la tradizione. Dopo aver fatto marinare il coniglio per una notte in frigorifero con vino bianco e spezie, soffriggere separatamente le cipolle e far rosolare il coniglio fino a completa doratura. Quando le 6 cipolle sono completamente appassite si aggiungono l'equivalente di 2 cucchiai d'olio. Si porta l'olio a ebollizione o a frittura. Si fa soffriggere e appassire un altro po' la cipolla, le 6 cipolle con l'olio. 2 minuti possono abbassare, appunto abbatto il gas al minimo e comincio ad aggiungere i pezzettini di coniglio che ho precedentemente soffritto. Aggiandoli una tanto all'altro sulla cipolla. Quando il coniglio è completamente adagiato dentro la nostra tente, abbasso il fuoco, aggiungo una manciata di guapassa, 2 cucchiai di olive nere. Le carote e le spezie è quello che è rimasto della marinatura. Lascio il coniglio a ribollire un altro po' nell'acqua di cottura della cipolla e preparo il mio agrodolce. Questo è come preparo io l'agrodolce. Prendo mezzo bicchiere di aceto, ai quali aggiungo 2-3 cucchiai di zucchero, 3. Lo rimescolo, faccio sciogliere bene lo zucchero. Quando lo zucchero è ben sciolto, aggiungo l'aceto e lo zucchero dentro la mia preparazione. Metto bicchiere d'acqua e porto il coniglio a ebollizione a fuoco molto vivo. Quando il coniglio comincia a ribollire, giro un po'. Aggiungo mezzo pugnetto di sale. Bene, affinché il sale si distribuisca su tutta la mia preparazione. Dopodichè, abbasso il gas di cottura al minimo e faccio cuocere per 45 minuti. Quasi a metà cottura, aggiungo 2 rametti di rosmarino e continuo a far cuocere fino al completamento del tempo di cottura. Durante i 45 minuti che serviranno al coniglio per cuocersi bene, andrò a rimescolare di tanto in tanto. Il fuoco, ricordo che sempre sarà al minimo, copro. Passati 45 minuti, vado a controllare il mio coniglio. Se la forchetta entra bene nella carne, significa che il nostro coniglio è pronto. Se invece ho qualche difficoltà, allora continuo con la cottura per altri 15 minuti. La mia forchetta entra bene, quindi a questo punto il mio coniglio è pronto. Posso procedere a chiudere il gas. E lascio riposare il coniglio nella ventola per circa 2 ore. Ecco pronto il nostro coniglio, buon appetito! Ciao! 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 Grazie a tutti.